Buonasera da Meteo.it. Nella giornata di domenica l'anticiclone continuerà a garantire tempo stabile sul nostro territorio perché, guardate, continuerà a dominare sul paese. Il clima si farà più umido al sud e anche sulle isole maggiori, ma queste correnti di aria umida riusciranno a richiamare qualche nuvole in più. Nel dettaglio la previsione per la giornata di domenica, quando noteremo un aumento della nuvolosità al nord-ovest in Liguria, sulle nostre regioni tirreniche e anche in Sardegna. Ma soltanto nel corso delle ore serali avremo il rischio delle prime deboli piogge in Liguria e anche sul Lazio. Le temperature massime torneranno ad essere al di sopra della norma al sud e anche sulle nostre isole maggiori, con punte di 17-18 gradi. Temperature che poi con l'inizio della nuova settimana tenderanno ad aumentare in gran parte del nostro territorio. Per maggiori dettagli io vi ricordo come solito la nostra app meteo.it